La raccomandazione da parte di Virella, Edoardo è tutta pronta, quando vuoi puoi partire. Edoardo, sempre molto concentrato. Molto bene, è veloce nel percorso per Edoardo, sempre molto determinato in gara, Edoardo. Edoardo, bellissima la girata del porto. Edoardo, il tempo è eccezionale. Edoardo, il tempo è eccezionale. Edoardo, parte Edoardo che va a chiudere il suo percorso. Edoardo, parte Edoardo, il tempo è eccezionale. Edoardo? Edoardo? Grazie a tutti.